il senso dell'essere il senso dell'essere è racchiuso nel non senso di sé può un ago cadere rimanere in equilibrio sulla punta può la volontà del pensiero cambiare gli eventi non solo il non senso di un evento casuale ne descrive la sua natura ma è l'essere se stessi nella casualità di un momento che rappresenta la verità della vita sotto l'occhio vigile dell'irrazionalità legata alla combinazione del fatto stesso di partecipare nel mondo in questo preciso istante con emozione Grazie Grazie Grazie